The Killer è un film originale a Netflix del 2023 diretto da David Fincher ed è basato sulla serie a fumetti del 1998 Il Killer di Mats e Luke Yakamon. In questo film il protagonista assoluto è un killer appunto, interpretato da Michael Fassbender. Fassbender interpreta questo silenzioso ma estremamente riflessivo, e avremo modo di sentire spesso e volentieri questi pensieri, questi pensieri di questo assassino, un assassino che al soldo del miglior offerente si presta appunto magari in appostamenti di giorni e giorni perché lui riesce dove gli altri falliscono, è uno dei migliori tendenzialmente, uno dei pochi, non uno dei tanti. Cosa accade? Durante un appostamento, se non erro a Parigi, ad un certo punto, malgrado il il suo indiscusso talento e il suo storico andato sempre a segno letteralmente, il nostro nel mentre che ha la possibilità di compiere l'ennesimo omicidio, purtroppo fallirà il suo colpo. Questo cosa comporterà? Comporterà inevitabilmente quindi tutta una serie di operazioni volte a tagliare la corda di fatto. Tagliare la corda, cancellare ogni eventuale collegamento con lui, la location, la dinamica, di quanto è accaduto e quindi, in definitiva, sarà una fuga questa, una fuga che il nostro cercherà di fare. Cosa accadrà però? scopriremo a poco a poco che i vari passaggi della fuga ci verranno mostrati che comunque esiste una casa per questo personaggio. Una casa che è stata evidentemente la prima assediata e poi, in definitiva, attaccata da qualcuno. Qualcuno che ha fatto del male ad una persona molto cara al nostro protagonista e che inevitabilmente ha fatto il più grande errore che potesse fare. Comincerà quindi che cosa? Un percorso di vendetta. Un percorso di vendetta estremamente metodico come è appunto questo protagonista che porterà questo killer a risalire a poco a poco tutta la scala gerarchica per andare quindi a vendicarsi di fatto e ad assicurarsi che quanto è accaduto non possa assolutamente riaccadere. Io ho visto questo film dopo aver finalmente recuperato quanto alla filmografia di questo regista. Un regista che ho avuto modo di apprezzare in maniera anche molto importante con alcuni suoi film ed invece in misura un pochettino minore con certi altri. Sono contento di poter dire che questo film, The Killer appunto, è uno dei film che ho maggiormente apprezzato nella filmografia di Fincher. Questo perché? Perché con questo The Killer abbiamo la possibilità, chi magari come me ha visto tanti film in cui magari c'era un assassino o quant'altro, soprattutto nei ultimi tempi, sto pensando ad esempio alla saga di John Wick, abbiamo la possibilità di vedere in realtà un assassino appunto protagonista che però per certi versi non si snatura mai, non diventa veramente mai un eroe di fatto, salvo forse in piccolissimi frangenti che io sinceramente non ho praticamente mai visto in realtà, in qualche misura declinati in maniera diversa quando si parla di avere un cattivo come protagonista. Questo film ci mostra il ripercorre, la strada se vogliamo al contrario un pochettino del nostro protagonista appunto Fassbender, un ottimo Fassbender come spesso è a mio avviso Fassbender e quindi abbiamo la possibilità di vedere questo assassino che va dapprima dal suo contatto che molto probabilmente ha dato delle informazioni che non avrebbe mai dovuto dare e a poco a poco vedremo questo assassino andare da coloro che hanno brutalmente picchiato se non peggio la persona che lui ama. Questo porterà a che cosa? Porterà a violenza, una efferata violenza coreografata in maniera efficace anche se non troppo sfarzosa, ritorno a pensare un pochettino al mio caro John Wick e in generale questo film per certi versi lo sfarzo, se vogliamo, un certo tipo di dinamismo estetico lo presenta salvo magari nei primissimi frangenti della fuga soltanto in alcuni frangenti a mio avviso, quando c'è magari qualche colluttazione con l'energumeno di turno o perché no magari nei titoli di testa che sono a mio avviso la parte più dinamica di un film che in realtà non vuole secondo me in maniera riuscita essere dinamico. Per certi versi questo film è un pochettino antiepico se vogliamo e questo suo volere essere antiepico è per certi versi forse uno degli elementi che maggiormente mi ha convinto durante la visione. Così come il personaggio è così metodico, così riflessivo, così per certi versi ripetente, certe dinamiche, al tempo stesso abbiamo modo di vedere in vari tasselli, almeno 3 o 4 se non erro, e in vari capitoli in realtà tutti i passaggi che portano il nostro appunto ad andare da quello che è stato di fatto il mandante, dopo essersi confrontato magari con coloro che si sono macchiati della terribile colpa di avere invaso il suo luogo sacro di fatto e soprattutto di aver fatto male alla persona che lui ama o che comunque è cara da lui. È un film questo che può vantare un Fassbender pazzesco come al solito. Michael Fassbender è riuscito a essere estremamente credibile, a mio avviso, con quelle sue espressioni che sono un po' un mischione, a mio avviso. Abbiamo dei momenti in cui ha questi occhi che sembrano un po' allucinati, al tempo stesso è così del tutto imperturbabile a quello che abbiamo modo di vedere, nel frattempo che lui è in scena appunto, e dal tempo stesso è un personaggio che percepiamo come assolutamente inquietante. Un personaggio assolutamente inquietante che nei piccolissimi frangenti in cui magari fa trasparire un po' di emotività, per certi versi può destare preoccupazione, perché un personaggio così comunque in qualche misura folle, nel momento in cui prova un qualcosa di intenso, potrebbe scatenare veramente un gran casino. Un gran casino comunque sempre rigorosamente studiato e panificato e figlio di una metodica appunto che è propria di questo personaggio. Un personaggio che si è scelto di rendere senza nome e che in realtà, proprio per questo suo essere anonimo, malgrado siano tanti i nomi con cui ci si riferisce a lui, riesce a essere, a mio avviso, estremamente efficace. Dal punto di vista audio-video questo film mi ha convinto, sì, mi ha convinto, per certi frangenti un pochino meno magari di altri film della filmografia di questo regista, che ho trovato più appassionanti visivamente o a livello musicale, ma quello che ho visto comunque mi è sembrato molto efficace, soprattutto quando abbiamo modo magari di rivedere quelle tinte un po' dark, un po' noir, se vogliamo, quei toni un pochettino desaturati, quel pizzico di seppia, quell'oscurità, in generale quei giochi di contrasti, tutti questi elementi accompagnati magari da che cosa? Da una componente musicale che non ho trovato assolutamente invasiva e che in realtà più è minimale, e magari un po' metallica, se certi versi possiamo definirla così, più, secondo me, è convincente. In generale, poi, i personaggi secondari, salvo uno, tutto sommato, sono, a mio avviso, abbastanza semplici, per certi versi un po' stereotipati, ma comunque efficaci, fanno il loro lavoro. Inevitabilmente, tra questi, spunta una delle due minacce fisiche, se vogliamo, alla quitte domestica del nostro protagonista, che è interpretata da Tilda Swinton. La Swinton, in un ruolo molto piccolo, riesce a essere un altro kill, di fatto, estremamente convincente, e che, per certi versi, è quello che è, ed è stato, e probabilmente un giorno in qualche misura sarà il nostro protagonista. Quindi c'è un discorso di confronto fra questi, che è anche affascinante da vedersi. Un confronto che, comunque, fortunatamente per il nostro personaggio di Fastbender, alla fine sarà lui, inevitabilmente, a gestire appieno, così come aveva pianificato fin dall'inizio. Che dire, questo film, che, come ho detto, ha un tono di antiepico, basti pensare, ad esempio, la conclusione che è stata, appunto, del mandante, di quanto accaduto, è un film, secondo me, non imperdibile, in realtà, neanche necessariamente nella filmografia di questo regista, ma, secondo me, è una visione estremamente solida, che se magari non verranno verato come il capolavoro David Fincher, o in generale un capolavoro, se vogliamo, dei film di azioni, con un po' di noir, un po' di dramma, e soprattutto un po' di thriller, un pochettino di crime, comunque, credo che possa valere la visione. E quindi, mi sento, per la sua solidità complessiva, e per l'ottima interpretazione di Fastbender, di consigliarvelo, The Killer di David Fincher. Guardatevelo.